Passiamo a spiegare le diverse modalità di tape monitoring. Prima ti ho accennato che cliccando col destro potevi settare il monitor sia su monitor input sia su monitor input tape auto style. Nel caso di monitor input tu ascolterai il tuo strumento e quindi quando selezionerò monitor input destro monitor input oppure passando attraverso i vari stati del monitor input fino a farlo diventare bianco sentirò il mio strumento a prescindere dal fatto che io sia in play con il sequencer o dal fatto che io stia registrando con il sequencer. Quindi anche se mettiamo in play e io suono vedi il cursore scorrere ma allo stesso tempo ascolti il tuo strumento. Questo sarà vero anche se io comincio a registrare. Nel caso in cui invece tu abbia un monitor del tipo tape auto style, quindi se clicchi col destro e poi scegli monitor input tape auto style, se fai partire in play il sequencer e suoni, adesso si sente perché non sono in play, se appena faccio partire il play il monitor input viene automaticamente staccato. Questa funzione è una reminiscenza del modo in cui funzionavano appunto i registratori a nastro. Scegli quella che più ti fa comodo, ovviamente quella che più fa comodo alle tue esigenze. Io in questo momento selezionerò un monitor input classico e quindi sentirò sia che il mio sequencer è in play, sia che il mio sequencer è in registrazione. Detto questo possiamo passare a registrare la prima traccia. Non ti basta semplicemente cliccare su REC, se la traccia è armata e quindi il pulsantino R è illuminato, non solo potrai sentire il tuo strumento, ma potrai anche registrarci. Proviamo a registrare una TIC breve. Bene, clicchiamo sullo stop. A questo punto ti si aprirà una finestra, ovvero un prompt, che ti chiede se salvare il file che hai appena registrato. Ovviamente noi vogliamo salvarlo perché dopo vogliamo salvare il progetto con questo file così registrato e andiamo quindi a salvare. Ovviamente c'è anche la finestra, ci dice anche prompt to save delete new files on stop on punch out play. Per il momento lasciamolo così com'è on stop, quindi quando cliccheremo stop si aprirà questa finestra che ci chiederà se salvare il file appena registrato o meno. Se lo salviamo questo file rimarrà nell'arrangere, quindi lo avremo a disposizione. Se clicchiamo su delete all, cancelleremo i file che abbiamo appena registrato e così anche se avremo cliccato su delete selected. Clicchiamo per il momento su save all e la traccia ci appare registrata. Ovviamente possiamo notare che a fianco del progetto comincia a comparire il modificato, cioè praticamente il reaper ci dice che questo progetto è stato modificato così come l'avevamo salvato inizialmente ed è cambiato qualcosa. In particolare quello che è cambiato è che abbiamo registrato una nuova traccia, per cui possiamo andare su file, save, oppure cliccare sull'iconcina che indica praticamente il floppy. File, save. E di fatti lo stato appunto torna di nuovo su esempio 1 che ci dice che il progetto è praticamente salvato. Possiamo metterlo in play e riascoltarlo, per esempio. Ok, quindi il file è stato appena registrato. Detto questo ti spiegherò inoltre che tutto ciò che ti ho fatto vedere prima, ad esempio il settaggio dell'input della traccia, ovviamente una volta che la traccia è armata compare appunto questa dicitura che ti dice che l'ingresso che in questo momento hai selezionato è l'analog 1. Quindi se andrai a registrare, registrai l'input, ovvero il segnale, che proviene dall'input 1 della tua scheda, ovvero starai registrando ciò che hai collegato all'input 1. E anche da qui, cliccando col sinistro, potrai scegliere mono input 1 o cambiare ingresso, ovviamente. Quindi ricordiamo, o col destro sulla R e possiamo selezionare da mono input il nostro ingresso, abilitare il monitoring con monitor input. Ovviamente questa spunta non ti ho spiegato dove andava settata perché presuppongo per il momento che stiamo registrando degli strumenti direttamente dall'input della scheda e quindi che dobbiamo registrare l'input appunto della scheda e lasciamolo così come di default. Detto questo, una volta che la traccia è completa, non ti resta che disarmarla per evitare di riregistrarci sopra e risalvare il progetto. Detto questo, non mi resta che salutarti e ci vediamo alla prossima. Grazie.